Una decisione che sta facendo discutere e sta suscitando proteste in tutto il paese e ora anche l'Austria vieta il burka. La legge che proibisce di indossare indumenti che coprono interamente il viso in pubblico è entrata in vigore il primo ottobre. Nonostante non sia un divieto esclusivamente rivolto al velo islamico, la normativa viene ugualmente definita da tutti gli austriaci come burka ban. A Vienna c'è chi, come questo ragazzo, definisce orribile e anticostituzionale la legge perché incita al razzismo e all'odio. La normativa, promossa dal leader del Partito Popolare austriaco Sebastian Kurz, è stata percepita anche come un'iniziativa in vista delle legislative del 15 ottobre. Intanto d'ora in poi, come ci spiega il portavoce della polizia austriaca negli aeroporti e alle frontiere, durante i controlli tutti i visitatori dovranno rimuovere qualsiasi indumento che copre il viso. In caso contrario non si potrà entrare nel paese. La normativa, che riguarda tutti i luoghi pubblici, prevede inoltre sanzioni con una multa da 150 euro.